Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va spero che siate bene e che sia trascorrendo una splendida giornata. In questo secondo e penso ultimo video della giornata vorrei parlarvi della situazione di Armando Izzo. Ebbene sì perché sembra che il difensore centrale classe 92 sembra essere ritornato nella rosa dei papabili titolari del Torino. Prima però di andare a vedere il motivo, mi raccomando come sempre di lasciare un lecco al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campagna di neglige notifiche perché soltanto in questo modo riceverete la notifica in diretta che appunto ho pubblicato quel video, quindi non ho spiegato tempo a cercarmi su YouTube e ripeto, riceverete la notifica in diretta. Allora come mai Armando Izzo quasi a sorpresa è tornato in questa rosa dei titolari del Torino? Perché sembra che dopo la vicenda di Belotti, dopo il gol annullato a Belotti in ultima partita di campionato, abbia avuto una reazione rabbiosa verso l'arbitro quasi a sottolineare una sorta di istinto di appartenenza, di una voglia, una grinta un po' sopita probabilmente in questi ultimi mesi che non è passata inosservata. Infatti il Pellegri, non il giocatore, bensì il padre, il dirigente, ha notato appunto questa sua reazione e l'ha presa in modo molto positivo. Sappiamo anche che un tecnico come Juric ama molto i giocatori grintosi e che comunque trasmettano rabbia. Ergo, sembra che appunto questa reazione abbia fatto, abbia stupito talmente tanto, scusate, la dirigenza Granata, tanto da rinserire appunto Izzo nella rosa dei titolari. Infatti sembra che probabilmente il giocatore potrebbe avere delle chance di titolare nelle prossime partite. Però questa cosa fa molto riflettere come mai ci è voluta una reazione così del giocatore, così forte, così istintiva, così rabbiosa, permettetemi il termine, per convincere, per farsi appunto da convincere i dirigenti Granata, l'allenatore Granata a considerarlo nuovamente un elemento importante. Questo dettaglio fa capire quanto probabilmente nei mesi scorsi Izzo fosse stato un pochino, o meglio le motivazioni di Izzo in questi mesi appunto si siano un pochino, abbiano perso di vigore, perso di importanza soprattutto dopo che non è stato concretizzato quel passaggio alla Lazio, se non erro, che poi appunto costrinse il giocatore a rimanere a Torino, un po' la stessa cosa che è successa a Bogat. Gli ultimi periodi che stava l'Atalanta giocava sotto tono, sembrava svogliato, scusate, quando stava al sassuolo, sembrava svogliato, indolente, giocava poco, quel poco che giocava giocava male. Poi, dopo il trasferimento alla Dea, Bogat si è risvegliato e penso che la stessa cosa sia capitata a Izzo. Probabilmente anche il giocatore avrà fatto le riflessioni su quello che è il suo presente e su quello che sarebbe potuto essere il suo futuro. Magari ha capito che dopo quelle stagioni ottime, sicuramente non avrebbe giovato alla sua carriera un periodo di inattività, diciamo così, motivata appunto da questa indolenza, da questo calo di motivazioni. Allora, probabilmente lui ha sentito un po' la pentola bollire, ma poi il caso sbelli è stato appunto il discorso del gol annulato, secondo me ingiustamente a Belotti, ne parlo anche nel video realizzato ieri. Quindi ecco, magari questo moto di rabbia ha fatto appunto sbottare Izzo. Ora quello che deve fare il giocatore è prendere questa rabbia, una volta che comunque è tornato, quantomeno sembra essere tornato in questa rosa di papabili, deve trasferire, deve canalizzare questa rabbia, questa voglia, insomma, magari anche di tornare a giocare, questo istinto del non voler perdere da fuoricampo al campo. Quindi deve lasciare via, deve buttare via tutte le cattive sensazioni, tutta la demotivazione che aveva e trasferire quella rabbia al campo. Gioco forza, appunto, il giocatore potrebbe rientrare in questa rosa di titolari. Quale posto andrebbe prendere? Ovviamente quello di Gigi, perché Gigi si è trovato titolare dopo appunto questa assenza di Izzo negli unici di partenza, formando una difesa con Izzo, Bremer e Rodriguez, che fondamentalmente era quella un po' più disegnabile come titolare all'inizio della stagione. Poi invece abbiamo visto appunto Izzo fuori, Gigi dentro, e poi ultimamente si è alternato con Zima. Quindi, ora, ci sono più opzioni, perché comunque nel rosa del Torino vedremo tecnicamente come braccetto di destra il tandem Gigi-Izzo, anzi, il trittico Gigi-Izzo-Zima, al centro Bremer, mentre a sinistra abbiamo Rodriguez e Buongiorno. Come ruolo vuoto, vacante, rimarrebbe quello di Vice Bremer, perché è l'unico, insomma, un po' con quelle caratteristiche. Però io non scarterei l'idea Zima, quindi di provare anche Zima come Vice Bremer, eventualmente poi questa decisione, qualora poi il giovine classe 2000 dovesse dimostrarsi all'altezza, magari indirizzare anche il mercato futuro. Buongiorno ha giocato anche come Vice Bremer, ma onestamente non è un Vice Bremer, un po' per caratteristiche. Quindi magari, invece, qualora vi fosse questa cessione di Bremer, invece di cercare un centrale puro, magari cercare un braccetto di destra, qualora poi non si volesse magari puntare su GG, perché comunque l'accoppiata GG-Izzo ha anche una certa età, quindi magari il torino potrebbe decidere di cedere un GG nella fattispecie qualora Izzo dovesse tornare ai suoi tempi d'oro e magari invece di cercare un puro difensore centrale di rottare la ricerca sul braccetto di destra. I nomi, come ad esempio, erano stati fatti anche nello scorso mercato, anzi scuola del mercato estivo, come Gigo e Comert hanno cambiato già casacca, quindi comunque cambieranno casacca, e quindi sono out of market, sono proprio imprendibili ora. Sarà poi da vedere come, insomma, gestire la cosa. Ho fatto anche un video su Simone Canestrelli, e qui casca l'asino, perché qualora dovesse partire GG, o comunque un altro GG-Izzo, onestamente io pervisco sempre Izzo-Gigi, un Simone Canestrelli che in quella posizione ha già giocato, secondo me avrebbe anche i piedi e le doti da fare il vice-Bremmer, ma ipotizziamo Zima, quindi un giocatore che comunque è molto più fisico, molto più aggressivo sulla metà campo, e Zima quello l'ha già fatto, ha ricoperto in passato anche il ruolo, oltre di terzino destro bloccato, anche quello di centrocampista centrale, o meglio mediano-basso, non tante volte, ma l'ha ricoperto. Quindi un Canestrelli, come dice Izzo, ragazzi sarebbe veramente un'ottima cosa, sta parlando all'Empoli. Quindi trovarsi con un pacchetto arretrato, con centrodestra, l'accoppiata questa volta, Izzo Canestrelli, al centro Bremer o un altro tale, con Zima, e a destra, e a sinistra, scusate, Rodriguez, e buongiorno, gioco forza, qualora dovesse appunto prendere Bremer, e potrebbe essere anche una condizione sine qua non, il prendere i Canestrelli, o il Canestrelli della situazione, c'è di Bremer, magari nel frattempo educhi un po' Zima, per prendere il ruolo da titolare, o magari poi ti dirotti, verso altri giocatori con quelle caratteristiche. Ragazzi, io punto sempre lì, se dovesse essere fatto un acquisto a centrocampo importante, se poi viene riscattato, e li vedrei bene Bandragora, il nuovo Izzo potrebbe essere, scusate, il nuovo Bremer potrebbe essere Mandragora, secondo me, a livello di caratteristiche, la cosa in più che addirittura Mandragora avrebbe rispetto a Bremer, è la fase di costruzione, ma comunque sebbe aggressivo, abitato a quella posizione, perché già ha giocato a Pescara, in quella posizione, e già l'ho detto in molti video addietro, quindi, sono molto curioso di vedere come si potrebbe sviluppare, questa telenovela difensiva del Torino, perché potrebbe insomma, dare inizio a buone trame di sviluppo, ovviamente tifosi del Torino e non, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, perché mi piace sentire la vostra, ovviamente spero che vi sia stato utile, e che chi vi sia piaciuto, chi vi abbia anche intrattenuto, perché no, in tal caso lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate le campagne di notifiche, prima di sempre aggiornati, vi mando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Grazie! Grazie!